amici ascoltatori benvenuti alla framma radio web o qui con me big miles buongiorno benvenuti e ciao davide questa è la puntata zero di un nuovo podcast che si chiama narrarti frammenti di cultura un progetto che tratta progetti e iniziative che ci sembrano interessanti a livello artistico e raccontano storie di giovani artisti emergenti esatto tratteremo tantissimi argomenti tra quella musica l'arte il cinema cioè la poesia la pittura e perché no piccolo spoiler il teatro perché piccolo spoiler perché la prima puntata avrà il teatro avrà proprio te come argomento senti ma te ti ricordi come abbiamo trovato il titolo per questo podcast beh in realtà diciamo che me lo ricordo ma forse ho bisogno di una piccola rinfrescata io mi ricordo che c'è stato proprio un milkshake di cervelli che hanno trovato il titolo giusto alla fine il shake esatto nar arti perché noi ci raccontiamo storie artistiche fra menti fra menti una chiacchierata fra menti sognatrici come noi e come voi e in tutto questo è presente anche la parola frama come frama radio web e come l'associazione fra martino quindi un gioco di parole su un gioco di parole su un gioco di parole incredibile ringraziamo cristian che con un po di caffè latte grazie cristian ciao senti ma i nostri ascoltatori come ci possono contattare ai nostri telespettatori possono contattarci in qualsiasi momento è facilissimo basta scriverci un'email a info chioccio la frama radio web punto com noi siamo più che contenti di avervi qua con noi per potervi raccontare per poterci fare una bella chiacchierata tra amici tra ragazzi siamo tutti giovani no è ma perché lo devono fa perché lo devono fare perché è bello poter no dar voce le proprie idee dar voce le proprie esperienze ragazzi e ragazzi se volete raccontare di voi se avete bisogno di far sentire la vostra voce noi ci siamo per voi e con voi a questo punto che altro si deve dire beh penso che è il momento del saluto sì facciamoci un saluto allora ragazzi noi andiamo a farci un frama pranzo forse per me è ancora presto sai io mangio più tardi sono un po più del sud capito comunque ragazzi volevo ricordare di seguirci assolutamente su instagram ci chiamiamo frama radio web e vi ricordo ancora se volete scriverci la nostra email è info chiocciola frama radio web punto com bravo io invece mi vado a fanghebab perché non ne posso più va bene un saluto allora un frama saluto a tutti ciao